Cari amici, eccoci di nuovo insieme dopo qualche tempo di pausa e di riposo, spero. Spero che tutti abbiate trovato tempo e modo per riposare e per recuperare un po' di forze adesso che abbiamo ripreso un po' tutte le nostre attività. Eccoci come dicevo di nuovo insieme e per chi non ricorderà o chi inizia da questo momento in poi ad ascoltare questa esposizione che durerà certamente del tempo, vorrei in qualche modo collegarmi all'ultima registrazione, all'ultimo programma che abbiamo avuto nel mese di luglio. Se vi ricordate abbiamo guardato insieme sempre nel prologo del Vangelo di Giovanni al capitolo 1 e proprio in quel capitolo ci siamo soffermati in modo particolare nella parte dove l'Apostolo Giovanni dice che coloro che nascono da Dio nascono perché non per volontà di carne ma né per volontà d'uomo ma per la volontà di Dio e quindi introduce Giovanni nel Vangelo il grande tema della nuova nascita e se voi vi ricordate come ho detto qualche mese fa avremmo ripreso i nostri incontri mettendo al centro questo tema che non è un tema semplicemente un punto di vista o una disquisizione teologica è un progetto di vita. Vorrei dire è la vita stessa, parlo della vita interiore ovviamente, della vita cristiana di quello che noi definiamo esperienza, la nostra esperienza con Dio. Ebbene, la scrittura definisce, in qualche modo la definisce, e la definisce con questo termine nuova nascita poi vedremo anche un po' meglio o nascita dall'alto, da alto che forse è più, come dire, è una traduzione più vicina al senso originale di questo tema che tratteremo. Tutto nasce quindi da questa espressione nel Vangelo di Giovanni Io ho tracciato una serie di argomenti, saranno almeno sette e ovviamente non li vedremo tutti questa mattina perché ogni argomento è un progetto a sé e un approfondimento su questo tema che merita un tempo sufficiente per poterlo trattare quindi inizierò questa mattina con una sorta di introduzione che è più che un'introduzione, vi renderete conto di quello che poi dirò che ha a che fare con questa esperienza della nuova nascita probabilmente ne abbiamo sentito parlare probabilmente e spero, sicuramente abbiamo sperimentato questo progetto di Dio per l'uomo progetto di salvezza per l'uomo e ne parliamo guardando insieme ad un incontro io ho voluto intitolare questa riflessione di questa mattina un incontro speciale, la nuova nascita un incontro speciale e lo è sotto diversi punti di vista e partiamo parlando appunto di un incontro e di un incontro da due persone fra Gesù e Nicodemo sicuramente fra i più abili nella scrittura conoscitore della scrittura già sapete dove andremo a leggere questo brano e lo leggiamo sempre nel Vangelo di Giovanni un po' più avanti del prologo nel capitolo 3 al verso 1 questo incontro fra Gesù e Nicodemo è un incontro che illumina tutto il tema che ci stiamo proponendo di trattare l'incontro segreto che poi non è il fatto che Nicodemo si rechi da Gesù in un contesto particolare non vuol dire che sia segreto ma essendosi svolto di notte dà l'impressione di qualcosa di segreto ma in realtà non lo è però è una finestra che si apre su questo argomento quello che i due si diranno Gesù e Nicodemo ci consegna il fulcro del messaggio evangelico e del cristianesimo stesso il fulcro del messaggio evangelico è la rinascita la possibilità che viene data all'uomo con la U maiuscola di poter nascere nuovamente ecco la rinascita o la nuova nascita o la nascita da alto come viene definita nel racconto che dà la possibilità all'uomo di un percorso nuovo ci inserisce in un progetto nuovo che Dio ha per ognuno di noi e senza la rinascita non c'è futuro e non c'è speranza se noi non entriamo in questa esperienza fondamentale essenziale della nuova nascita non abbiamo futuro e non abbiamo speranza quindi leggiamo insieme il testo e poi faremo le dovute considerazioni c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo uno dei capi dei giudei egli venne di notte da lui e gli disse rabbì noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui Gesù gli rispose in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è già vecchio può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere Gesù rispose in verità in verità ti dico che se uno non è nato da acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore ma non sai né da dove viene né dove va così è di chiunque è nato dallo spirito Nicodemo replicò e gli disse come possono avvenire queste cose Gesù gli rispose tu sei maestro di Israele e non sai queste cose questo è il racconto questo è l'incontro che ho voluto concludere volutamente concludere con una domanda aperta con due domande una da parte di Nicodemo che chiede a Gesù come possono avvenire queste cose un po' come Maria quando si trovò di fronte all'annuncio dell'angelo che le diceva che sarebbe rimasta incinta e le disse come possono avvenire queste cose poiché non conosco uomo ed è la stessa domanda che Nicodemo rivolge a Gesù come possono avvenire queste cose e l'altra domanda è quella che Gesù rivolge a un po' retorica a Nicodemo ma come tu sei maestro di Israele e non sai queste cose quindi vedremo in qualche modo di dare delle risposte a queste domande importanti domande che tu ed io ci dobbiamo porre e ce ne faremo molte altre perché i temi e gli argomenti che ci attendono nelle prossime settimane domeniche mesi che verranno saranno temi che metteranno a dura prova la nostra testimonianza e la stima che abbiamo di noi stessi di fronte alla rivelazione della scrittura con la quale ci dobbiamo confrontare ora in questa sessione del Vangelo di Giovanni continua la manifestazione di Gesù a coloro che vogliono credere in Lui c'erano stati dei discepoli che l'abbiamo seguito ci saranno più avanti altri incontri importanti come quello della Samaritana ed altri ancora ma questa è una sessione di incontri ecco tutto inizia con questo incontro importante ed è uno dei tanti che avverrà e quello che Giovanni vuole fare adesso è anche quello di inserire tra i testimoni testimoni attendibili cioè testimoni che all'interno della società del tempo avevano un peso in quanto alla funzione che svolgevano e al rango a cui appartenevano quindi vuole come dire volutamente vuole inserire questi testimoni attendibili perché vuole dare credibilità ai fatti vuole sottolineare i fatti con testimonianze di un certo peso in questa storia come ho detto assisteremo ad un incontro tra Gesù e un uomo colto Nicodemo che viene definito viene detto di lui uno dei farisei oppure uno dei capi degli ebrei oppure ancora viene definito come un maestro di Israele quindi voglio dire questa persona non era uno qualunque uno sprovveduto disinformato poco conoscitore della scrittura era uno dei farisei è definito uno dei farisei ma non non lo sarà più nell'ultima apparizione del Vangelo di Giovanni perché qui è definito come fariseo e noi sappiamo che la classe dei farisei ingiustamente viene tacciata come ipocriti ma i farisei non sono ipocriti quanto meno non nascono per essere degli ipocriti ma per essere degli osservanti scrupolosi gelosi della legge di Mosè quindi abbiamo a che fare con un uomo che conosce bene e e che fa di tutto per essere in linea con la volontà di Dio adesso viene definito un fariseo ma più avanti lo ritroveremo insieme a un certo Giuseppe Darimatea che anche lui insieme a Nicodemo era un discepolo nascosto di Gesù questi due personaggi Giuseppe e Darimatea e Nicodemo li ritroviamo al momento della sepoltura del corpo di Gesù quindi significa che Nicodemo dopo questo incontro a Nicodemo è accaduto qualcosa e io mi auguro e auguro con tutto il cuore a tutti voi che ancora non avete sperimentato questo speciale incontro di essere come Nicodemo che alla fine nel tempo vediamo che non è più un fariseo ma è un discepolo di Gesù e lo e lo dimostrerà proprio nel momento cruciale della vita di Gesù quindi Giovanni vuole parlare così ai suoi contemporanei circa coloro che non hanno il coraggio di professare la propria fede apertamente e questo accade anche tra la classe colta di quel tempo perché c'è il timore di essere poi marchiati di essere esclusi di essere estromessi anche dagli incarichi perché non in linea con il pensiero dominante della classe dirigente o della classe colta in questo caso Nicodemo sarà descritto come un maestro maestro di Israele abbiamo detto prima ci sono questi termini che ricorrono nel suo profilo nel tracciare il suo profilo ma Nicodemo oltre ad essere un maestro o nonostante fosse un maestro era all'oscuro c'era una sorta di ignoranza riguardo le cose spirituali quindi significa che noi possiamo conoscere tutto o tanto o molto ma se non conosciamo le cose essenziali se non ci appropriamo delle verità essenziali che sono presenti nella scrittura e che sono per noi decisive e importanti siamo degli ignoranti e questa ignoranza di Nicodemo è descritta come la sua notte andò di notte Nicodemo è una figura importante del Vangelo e molto spesso i predicatori insegnanti e quant'altri si si possono come dire rispecchiare lui è un personaggio familiare per i predicatori perché era una persona dotata come lo sono tanti che servono il Signore che parlano predicano e fanno altro però era un personaggio Nicodemo che aveva una mancanza interiore aveva un buco buco nero c'era una lacuna enorme e il fatto che lui non avesse chiaro chi fosse Gesù non era un punto negativo ma è uno stimolo vedete come la mancanza di conoscenza non ci deve fare accomodare vabbè non importa boh chissà cosa significherà ma ci dobbiamo fare delle domande quando non comprendiamo le cose quando non le sappiamo dobbiamo cercare la verità dobbiamo cercare le cose oscure dobbiamo fare in modo che diventino quello che non abbiamo le lacune diventino uno stimolo verso un'esperienza nuova in questo caso verso l'esperienza della nuova nascita della nascita nello spirito che per Nicodemo diventa qualcosa di importante come dire non so cosa sia ma la voglio non so cosa sia ma desidero conoscerla quindi le parole di Gesù a Nicodemo sono uno stimolo hanno l'intento di stimolare Nicodemo a intraprendere un viaggio e ad arrivare poi ad avere un passaggio un passaggio ad un cuore ad uno spirito ad una mente ad un comportamento totalmente nuovo e quando diciamo e dico nuovo non è qualcosa di rattoppato o di accomodato nuovo è nuovo quando tu compri qualcosa di nuovo è nuovo confezionato ancora con il cielo fanno per dire ancora con la targhetta del prezzo della qualità del prodotto è nuovo quindi ora considerando ancora Nicodemo perché è di lui che parleremo ancora diciamo che abbiamo detto che era uno era un fariseo era capo dei giudei quindi noi come ho detto prima pensiamo ai farisei come degli ipocri in realtà erano coloro che amavano la legge perché era l'espressione della volontà divina e si sforzavano di osservarla c'era proprio un impegno nel voler compiere quella volontà quindi lui è tra l'altro è un membro del Sinedrio il Sinedrio era l'organo centrale del governo di una città della nazione il Sinedrio è composto da diversi elementi da 70 elementi di diverse estrazioni Sadducei Farisei e altri componenti il Sommo Sacerdote erano membri di un organo importante deliberava su tutto su questioni spirituali religiosi civili su decisioni importanti quindi lui era sicuramente un personaggio di spicco all'interno del Sinedrio e venne di notte nel verso 2 dice egli venne di notte da Gesù e gli disse Rabbi quindi viene di sua iniziativa nessuno lo costringe è una persona curiosa che possa essere che tu ed io noi possiamo essere persone che sono spinte dalla voglia di sapere come un ricercatore come un archeologo che scava per tirare fuori i pezzi preziosi di verità viene di sua iniziativa va di notte ma il fatto che vada di notte non dobbiamo pensare che sia un vigliacco perché è mosso dalla paura paura di essere scoperto paura io lo vorrei vedere sotto un'altra luce non vigliaccheria né paura ma è come un viaggio che fa la notte verso il giorno lui rappresenta la notte il buio interiore lui andò di notte perché quella notte era dentro di lui quella notte lo rappresentava era alla ricerca di qualcosa che non sapeva non sapeva dove trovarla si incontra con Gesù ed è l'incontro come ho detto speciale perché è la notte che va incontro al giorno è il dubbio che va alla ricerca della verità io non lo voglio vedere come un vigliacco ma come una persona coerente che non sa delle cose ha sentito parlare un uomo Gesù e ha capito che quest'uomo ha qualcosa di speciale le parole di Gesù lo porteranno alla luce e lo porteranno alla comprensione della verità e Gesù stesso dice e quando noi riceviamo la verità la verità ci fa liberi quindi le parole di Gesù lo porteranno ad accogliere questa luce a liberarlo anche dal pregiudizio ed è come la figura lui rappresenta allo stesso tempo Israele e chiunque cerca la luce della vita quindi vediamolo come un viaggio della notte verso il giorno lo chiama Rabbi maestro come lui Nicodemo chiama così Gesù ma Gesù non è un suo collega un semplice collega no fra insegnanti docenti fra impiegati alle volte c'è questo no essere colleghi nel senso che siamo allo stesso livello ecco Gesù non è un collega di di Nicodemo sebbene Gesù sia maestro ma Nicodemo riconosce lui la qualità di Rabbi ma gli dice anche che è il Messia è colui che viene da Dio e che fa le cose che Dio dice di fare quindi lui ha capito che questo Gesù ha qualcosa di speciale di importante ed è determinato a volerlo scoprire a volerlo come dire a volerlo interrogare su questa particolarità che vede in Gesù sa sa che è venuto da Dio lo riconosce come maestro quindi suo collega ma è molto di più molto di più Gesù è il Messia ha compreso qualcosa di nuovo Gesù gli rispose quando gli fece appunto delle domande intorno alla verità noi sappiamo che quindi questo noi significa che lui è anche rappresentante di una categoria dei dotti dei sapienti l'autorità di Israele noi sappiamo che tu sei da Dio perché se no non potresti fare le cose che stai facendo e Gesù gli rispose in modo in modo tagliente nel senso che se uno non è andato di nuovo al verso 13 non può vedere il regno di Dio è inutile che tu vuoi indorare la pillola cioè mi vuoi far capire che hai capito ma in realtà non hai capito ancora un bel niente perché se non accade qualcosa che Gesù definisce nasce una nuova nasce nato di nuovo o essere generato non puoi vedere il regno di Dio ora qui c'è un diciamo una piccola parentesi che vorrei aprire riguardo il termine nascere di nuovo c'è un altro termine nella parola nel greco che significa nascere dall'alto e che è diverso dal essere generato ed è qui che nasce il problema per Nicodemo perché probabilmente fraintende questa questione dalle domande che poi porrà alla fine abbiamo detto come possono avvenire come è possibile che un uomo entri di nuovo ecco perché Gesù stava dicendo che non doveva essere generato da un punto di vista naturale ma doveva nascere dall'alto che significa anche di nuovo quando uno viene generato dall'alto o generato di nuovo significa che viene dall'alto è un'altra generazione non c'entra niente con l'umanità da qui c'è questo fraintendimento il primo cioè Nicodemo pensa ad un nascere in modo naturale la carne mentre Gesù quando parla di nascita parla di una nascita dall'alto e intende una nascita spirituale dallo spirito e quindi questo è il termine e il vocabolario riguardo questo argomento che Giovanni utilizza nella sua comunità ricordiamoci che i Vangeli poi ancora più quello di Giovanni che è il più antico nel senso che è l'ultimo che viene almeno messo in coda a tutti gli altri e che già siamo intorno all'anno al 90 dopo Cristo alcuni lo collocano ancora più avanti al 100 quindi stiamo parlando che già le chiese esistono da almeno 50 anni 60 anni quindi Giovanni sta introducendo una terminologia che ha un significato particolare e vuole dire proprio questo tu devi nascere di nuovo non nel senso della carne cioè una nascita o una generazione ma devi nascere dall'alto una nascita spirituale a quanto pare questa questione sia stato un problema tra i maestri di Israele di quel tempo che vengono accusati dai discepoli di allora di non capire il vocabolario dello spirito quindi come Gesù dirà qui quello che è carne è carne e quello che è spirito è spirito le due cose non possono andare insieme più avanti sarà Paolo che dirà noi abbiamo bisogno di una mente rinnovata per giudicare le cose dello spirito altrimenti non possiamo farlo perché ci vogliono ci vuole una mente spirituale per le cose dello spirito non una mente carnale c'è una vita religiosa che parte dal basso che non giova a nulla una vita religiosa di basso livello di bassa qualità perché è carnale non so se questo vi fa venire in mente qualche riflessione qualche esperienza una vita religiosa basata su nulla non giova a nulla perché solo chi è generato dall'alto ha la vita eterna e può condividere questa vita eterna chi non ha il cuore nuovo rimane al buio come Nicodemo che andò vero è che andò di sera ma si recò da Gesù in piena oscurità spirituale era lui a essere al buio chi non ha il cuore nuovo rimane nella notte rimane al buio Gesù rispose ancora una volta in verità in verità ti dico e questo lo ripeterà più di una volta in questo brano questa espressione in verità che significa Amen cioè un'affermazione forte forte e lo dice per ben due volte in verità in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio non si deve entrare di nuovo nel seno della madre ma nel regno del padre bellissimo non devo entrare come se devo tornare indietro un percorso ritroso nella mia carnalità o nella mia umanità ma devo entrare nel regno del padre la generazione di cui parla Gesù non è quella generazione dal basso che abbiamo detto prima una religiosità dal basso ma è dall'alto dallo spirito e il battesimo di Gesù diversamente da quello che Giovanni Battista sta nel frattempo amministrando sarà nello spirito il battesimo nello spirito è la porta d'ingresso della nostra esperienza cristiana della nostra salvezza della comprensione delle cose di Dio lo vedremo nelle prossime settimane il battesimo di Gesù sarà nello spirito ed è qualcosa che va molto al di là di quello che forse abbiamo compreso che ci hanno detto riguardo il battesimo dello spirito nello spirito con lo spirito vedete voi come lo volete definire ma comunque di questo intervento sovrannaturale dello spirito santo che sicuramente cambia la nostra storia non è semplicemente una conferimento di potenza o una una manifestazione di doni o di segni ma è un cambiamento della vita per questo ho detto è importante il battesimo di Gesù che opererà sarà quello nello spirito a che fare con il fuoco cioè con il sdradicare sdradicare non i peccati ma il peccato sarà un'azione e una un'operazione radicale in questo senso si parla di rinascita o di nuova nascita qualcosa che non ha più nulla a che vedere con quello che c'era prima quindi è importante tutto questo e per questo che ancora Gesù dice al verso 7 non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo o dall'alto bisogna non è un'opzione non è una qualcosa che dice vabbè lo faccio non lo faccio non importa è uguale no non è uguale per niente bisogna vuol dire che tu devi se vuoi entrare in questa dimensione poi vedremo gli effetti di tutto questo bisogna nascere di nuovo non puoi rimandare questa esperienza e questa esperienza avviene durante un incontro il cristianesimo ho detto tante volte è una relazione con Dio ne è più e ne è meno è una relazione è un incontro di cuori come questo è un incontro tra la morte e la vita tra il buio e la luce tra il vecchio e il nuovo quindi vedete quanto è importante se noi ancora ci stiamo chiedendo se siamo nati di nuovo oppure no vuol dire che c'è qualcosa che da mettere a punto poi lo vedremo quindi bisogna nascere di nuovo e Nicodemo di fronte a questo imperativo fa la domanda come possono avvenire queste cose come è possibile che avvenga una nascita Nicodemo avanza il dubbio sulla possibilità di questa nuova generazione è impossibile per l'uomo sicuramente non possiamo farci di nuovo come ci facciamo noi da noi stessi di nuovo c'è bisogno di qualcuno di un intervento esterno potente e soprattutto interiore è impossibile per l'uomo ma non per Dio Dio è capace di farti di nascere di nuovo è capace di farti essere quello che avresti voluto essere da sempre ma non hai potuto perché con le tue forze con le mie forze non è possibile ma Dio lo può fare la questione è lasciata in sospeso come si può capire ciò che è celeste se non si può capire ciò che è terreno Gesù dice quello che è naturale ci insegna lo spirituale come sarà mai una nascita dall'alto che cosa come fa il vento che soffia ad essere come la nascita nello spirito Gesù dice i nati di nuovo sono come il vento che soffia dove vuole non sai da dove viene non sai dove va eppure viene associato alla nascita nello spirito cosa vuol dire nascere d'acqua e di spirito nascere d'acqua e di spirito sicuramente è una congiuntura importante tra l'azione dello spirito e la parola di Dio che ci viene ci viene rivelata io spero che quello che sto cercando di dire stamattina con le mie povere parole con i miei concetti scarni possa essere invece una rivelazione per voi e che possiate arrivare a nascere d'acqua e di spirito e possiate essere come il vento non sai da dove viene non sai quando e come lo spirito fa queste cose però ne vedi gli effetti vedi muovere gli alberi vedi muovere l'acqua vedi muovere gli oggetti perché il vento soffia e soffia dove vuole quindi ci sono delle domande aperte ma tutte queste domande hanno la risposta sembra non esserci alcuna via d'uscita siamo come bloccati come si fa cosa vuol dire pare che ci sia una una situazione di stallo carne e spirito non riescono a capirsi sono due due blocchi che non comunicano tra loro non c'è nessuna comunione fra le tenebre e la luce fra la carne e lo spirito non c'è nessuna possibilità di incontro di comunione e quindi che succede? siamo tagliati fuori e quindi non possiamo fare nulla e quindi stiamo perdendo tempo stiamo ascoltando inutilmente no non è così lo spirito di Dio è pronto Gesù stesso mediante il suo spirito è pronto a rispondere a queste tue domande come con un incontro come con l'ascolto della parola di Dio come con un cuore come quello di Nicodemo che sa di essere al buio e fa un viaggio verso il giorno sa di essere ignorante e fa un viaggio verso la conoscenza della verità che è Gesù che gli illuminerà il cuore quindi non tutto è perduto non tutto finisce con una domanda aperta ma finisce con una con una progetto con una serie di indicazioni vai a Gesù parla con lui digli quello che hai nel cuore fai anche a lui questa domanda fai a lui questa domanda come quella che fece Nicodemo come possono avvenire queste cose e vi ricordate che ho detto che questa stessa domanda la fece Maria all'angelo quando lo incontrò e gli disse ma come avverranno queste cose se io non conosco nessun uomo sapete cosa gli disse l'angelo disse Maria non temere lo spirito santo verrà su di te l'ombra dell'altissimo ti coprirà tu resterai incinta e partorirai il figlio di Dio il santo non preoccuparti certo non è possibile rimanere come si dice spesso con una battuta per virtù in quel caso non fu una battuta fu vero per virtù per opera per la potenza dello spirito santo Maria rimase incinta ecco che Dio risponde alla domanda di Maria come può avvenire Nicodemo come possono accadere queste cose lo spirito santo verrà su di te e ora mi fermo perché voglio che voi riflettiate su questo e che vi prepariate anche a quello che verrà nelle prossime settimane perché se non sei nato di nuovo dovresti esserlo se vuoi essere un cristiano e se sei nato di nuovo devi saperlo e il tuo identikit deve essere chiaro la tua personalità deve corrispondere a questa rivelazione a questa azione dello spirito di Dio quindi tutto questo lo vedremo nel tempo avvenire io così mi fermo vi auguro una buona domenica e una buona riflessione su questo grande tema della nuova nascita Dio vi benedica a presto ciao buona domenica